Accompagnare sul territorio pistoiese l'avvio di nuove imprese sociali è lo scopo del bando aperto da scadenza per presentare domanda e il primo aprile dallo IUNUS Social Business Center dell'Università di Firenze. Si tratta della terza edizione di un bando finanziato da Fondazione Oragio di Luce Onlus e da Fondazione Caripit. È rivolto a tutti, senza limiti di età, di sesso, di provenienza, a tutte le persone che vogliono far partire un'impresa sociale sul territorio pistoiese. Basta andare sul nostro sito www.sbflorence.org, lì trovate il bando. Per partecipare al bando basta compilare una scheda molto semplice con la vostra idea imprenditoriale, ce la inviate a noi, noi la valutiamo e poi i selezionati possono accedere al bando. Cosa offre il bando? Il bando offre un accompagnamento e una formazione, quindi ci saranno degli appuntamenti con degli esperti per affinare la propria idea imprenditoriale, per capire come fare il branding, come fare la promozione, quali sono le forme legali migliori, ci sono gli appuntamenti con i commercialisti, con gli avvocati, con i consulenti del lavoro, quindi un pacchetto completo di supporto. Alla fine le idee e i business plan che sono stati formati a questo percorso di accompagnamento vengono valutati, i migliori ricevono un contributo a fondo perduto e può arrivare fino a un massimo di 20.000 euro. In questi anni che tipo di imprese sono state avviate? Sono state avviate già due, altre due sono in corso di avviamento, una ad esempio è in collaborazione con la carta di pesce, fanno carta fatta a mano usando metodi tradizionali. Un'altra impresa che è in formazione ora produrrà tè kombucha, quindi tè fermentato che va molto forte sul wellness e impiegherà personale svantaggiato. Abbiamo in incubazione anche un amministratore di condominio sociale e che anche loro si stanno per formare ora e sono quelli dell'ultimo bando. Un'impresa sociale che caratteristiche ha? L'impresa sociale ha come caratteristica quella di nascere con l'obiettivo specifico di risolvere un problema sociale e ambientale, è fatta da gruppi di persone e ha come obiettivo anche quello di reinvestire i propri utili dentro l'attività di impresa, quindi a favore dell'obiettivo sociale.